Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Altissima tensione al grande fratello tra Beatrice e Garibaldi. Tutto è partito da alcune dichiarazioni di fuoco della geffina, che hanno fatto imbestialire il compagno di avventura. Quest'ultimo non si è trattenuto e durante una delle pubblicità, andate in onda nel corso della diretta, ha iniziato ad attaccarla duramente usando anche termini offensivi. E si preannuncia quindi una settimana a dir poco turbolenta all'interno della casa. Entrando già nei dettagli, Beatrice ha parlato così di Garibaldi e della sua famiglia, in particolare del papà del Bidello, il quale aveva fatto una sorpresa nella precedente puntata. Mi sono trovata davanti ad un padre che difendeva completamente il figlio. Ero di fronte ad una cultura patriarcale, familistica e poco oggettiva. Quando è entrata la madre, che è stata favolosa nei miei confronti, loro due si sono girati a Comunella e se ne sono totalmente infischiati di quello che la donna diceva. E ancora l'attrice ha aggiunto, un atteggiamento maschilista e irrispettoso nei confronti della donna di famiglia. Lui e suo padre sono dei maschilisti. Se le cose in Italia vanno così è per questo motivo. Non c'è l'oggettività di dire che un figlio può sbagliare. Ma durante il grande fratello, dopo che Beatrice ha esternato questo suo duro pensiero, Garibaldi si è arrabbiato, lei è veramente una persona brutta e cattiva. Dire che siamo maschilisti è una cosa grave. Non voglio che mio padre sia messo in discussione in questi argomenti. Lei non si deve proprio permettere di dire certe cose assurde. Giuseppe ha continuato a difendere totalmente il padre, affermando che sia una bravissima persona e non come quella descritta da Bea. Mio padre è oggettivo e se sbaglio mi dà anche uno schiaffo di educazione. Non c'è mai stato maschilismo in me o mio padre e mi ha insegnato sempre il rispetto. Lei fa passare un messaggio troppo forte e io non le permetto di continuare. Non va bene perché sta passando un messaggio molto sbagliato. Io mi devo calmare. No, questa non te la faccio passare. E andremo pure fuori su questo discorso. Ne riparleremo, fuori da qui poi ne riparleremo.